Si chiama stanchezza, il motivo per cui non si rincorre più nessuno. Vuoi rimanere? Rimani. Vuoi andare via? Vai. Accade quando corri sempre tu per primo, per poi scoprire che hai corso per niente. In quel momento basta correre, puoi stare seduto da solo. Dicono che se una domma si allontana è perché ha un altro. Io non credo. Una domma che si allontana non per forza ha un altro. A volte è solamente stanca di vivere a metà. Esatto, vivere a metà, sopravvivere, essere vuoti di sentimenti e pieni di tensioni. Una donna non è stanca quando si nervosita e si arrabbia. Una donna è stanca quando si è delusa e resta in silenzio. Quando i suoi sacrifici diventano inutili, scontati, invisibili. Ed è proprio in quei momenti, quando le manca la serenità, che una donna preferisce restare da sola. E in fondo le assenze sono risposte chiare e precise, per chi le vuole ascoltare.